Coronavirus è la seconda vittima cremonese. Si tratta di un 73enne di Offanengo, Francesco Cattani, oppenso nato ricoverato all'ospedale di Pavia. In provincia di Cremona intanto il numero ufficiale dei contagiati era ieri di 123 persone che il nostro ospedale si ormai in affanno nel gestire le emergenze. Intanto lo ha ribadito il dottor Angelo Pan, primario dell'Unità di Malattie Infettive presso il locale Nosocomio. In tribunale ieri 15 processi in calendario sono stati celebrati tutti a porte chiuse per evitare assembramenti. I testimoni hanno atteso il loro turno in cortile. Per lo stesso motivo, ovvero per evitare resso, oggi al mercato cittadino di Cremona sono presenti soltanto i banchi degli alimentari. Secondo Regione Lombardia non è ancora il momento di abbassare la guardia, da qui la proposta al Governo di mantenere per un'altra settimana in vigore tutte le misure di contenimento già previste.